eccoci di nuovo in diretta sulle fonti tv per la nostra maratona è sempre l'otto marzo donne e lavoro continuiamo a parlare di parità di genere nel mondo legale intanto mi ha raggiunto gabriele ventura vice direttore di le fonti legal ciao gabriele buongiorno federica buongiorno ai nostri telespettatori e buona festa della donna grazie e insieme illustreremo i dati elaborati dal centro studi le fonti sulle quote rosa all'interno dei primi 20 studi legali d'affari in italia andiamo subito quindi ad analizzare i nostri i nostri dati e partiamo subito con la classifica che è stata stirata proprio dal centro studi la classifica appunto delle quote rosa il primo dato che salta all'occhio sicuramente è il totale cioè la media la percentuale media delle donne partner che secondo i dati del centro studi non supera il 20 per cento ma si attesta al 18 virgola 4 per cento quindi diciamo una percentuale gabriele molto preoccupante insomma sì soprattutto se si confronta questa percentuale appunto del 18 per cento con quella che abbiamo rilevato nella nostra indagine un anno e mezzo fa nel 2019 possiamo vedere nel secondo cartello grafico che c'è proprio il raffronto tra il 19 per cento del 2019 appunto e il 18 per cento di oggi una differenza diciamo in termini aritmetici che direi praticamente nulla ma il dato sostanziale qua è che le cose non stanno cambiando e questo a fronte di tutte le iniziative che soprattutto i grandi studi legali d'affari stanno portando avanti in merito alla diversity però appunto come vedremo anche nel nostro confronto odierno e soprattutto nella nostra classifica sono iniziative che restano insomma di facciata ma poi in realtà a casa loro gli studi legali d'affari non portano effettivamente avanti delle politiche per le pari opportunità ed è emerso anche nella chiacchierata precedente con l'avvocato Padovani ed emerge anche soprattutto rispetto ai dati sui redditi. Esatto esatto infatti se osserviamo il cartello 3 proprio sui redditi sui dati di Cassa Forense sui redditi degli iscritti divisi per uomo e donna vediamo che a fronte di un reddito medio di categoria di circa 40 mila euro un uomo guadagna in media circa 53 mila euro contro una donna che ne guadagna circa in media 24 mila quindi diciamo che c'è una differenza di circa il 40 per cento cioè le donne guadagnano in media un 40 per cento in meno dei colleghi uomini. Questa percentuale poi varia con l'età infatti dalla tabella si evince che si riduce questa differenza nell'età più avanzate quindi diciamo già insomma da questi dati si vede è ben evidente il fatto che nei redditi la parità di genere è ben lontana dall'essere raggiunta insomma si parla di uno scarto notevole in quanto sui redditi appunto. Ecco infatti se non c'è una parità di genere per quanto riguarda i redditi c'è una parità e lo possiamo vedere nella slide successiva per quanto riguarda la femminizzazione della professione di cui avete parlato anche tu e l'avvocato Padovani che ha citato gli ultimi dati di Cassaforense come possiamo vedere ormai sono donne e uomini 50-50 nel senso 50 per cento e 50 per cento ed è un processo che si è avviato ormai negli ultimi 20 anni che è destinato poi ad andare avanti nel senso che poi molto presto ci sarà il sorpasso. Lo possiamo leggere anche andando a vedere il dato più interessante ovvero nelle classi al di sotto dei 50 anni il genere femminile ha ormai di gran lunga sorpassato dal punto di vista numerico quello maschile quindi diciamo che è proprio un'onda che non si riesce a fermare poi tra l'altro ci sono anche gli ultimi dati che Cassaforense ha presentato giusto venerdì. Esatto esatto ha presentato questi dati durante la presentazione del rapporto census dell'avvocatura che andiamo proprio a vedere nel prossimo cartello numero 6 in cui appunto si vede la femminilizzazione della professione quindi come si è evoluta dagli anni 80 fino ad oggi quindi insomma è ben evidente il fatto che negli anni 80 c'era solo un 7% di iscritti donne alla Cassa contro il 93% di uomini dato che poi si è triplicato nel 95 fino a raggiungere per le donne il 21% ma diciamo il balzo c'è stato tra il 2005 e il 2020 proprio come diceva anche l'avvocato Padovani prima nel 2005 da 36% di iscritti donne 64% di iscritti uomini e nel 2020 invece diciamo che la forbice si è proprio molto ridotta quindi si sono quasi parificati 48% di iscritti donne 52% di iscritti uomini quindi effettivamente insomma il problema è poi invece quando c'è lo scatto come dicevamo con l'avvocato Padovani quando c'è lo scatto di professione quindi diciamo di per salire nelle posizioni apicali perché insomma a livello di iscrizioni insomma la situazione sembra si c'è un grata infatti c'è proprio una vocazione ormai femminile per la professione di avvocato ma poi la carriera si inceppa nel senso poi chiaramente il periodo clou è quello della maternità e però appunto tornando alla nostra classifica possiamo anche vedere gli studi dove dove effettivamente qualcosa si sta muovendo e quelli dove invece assolutamente no. Esatto esatto infatti vediamo già che di tutti questi venti ce ne sono solo due che superano la cosiddetta quota 30 che molte aziende internazionali prendono come riferimento per applicare le politiche di diversity quindi due su venti praticamente di questi poi possiamo vedere che di questi venti che lo studio che ha più soci donne è lo studio Bonelli Erede con un 20% però se però guardiamo gli altri studi legali di affari Gianni Origoni, Chiomenti e NCTM insomma i dati sono poco incoraggianti nel senso che Gianni Origoni ha più di 100 partner ma solo 16 sono partner donne ovvero solo il 15% ancora sotto diciamo in classifica abbiamo Chiomenti dove invece le partner sono solo 6 quindi il 10% mentre NCTM ha solo il 9,5% di soci donne quindi insomma la situazione anche nei grandi studi d'affari strutturati e sembra non andare nella direzione di una parità di genere. No esatto e sono proprio quegli studi che si confrontano con le grandi aziende che stanno mettendo anche dei tutti dei parametri ISG per le partecipazioni ai beauty contest per cui aumenta diciamo la sponsorizzazione da parte degli studi legali delle politiche di diversity che come abbiamo detto restano però sulla sulla carta e però appunto tornando alla nostra classifica che abbiamo appena mandato in onda ecco un dato mi premeva sottolineare la classifica è chiusa da due studi anglosassoni che sono Linklater e Freshfield e perché lo sottolineo perché storicamente e soprattutto anche negli ultimi anni questi studi anglosassoni che hanno la casa madre in UK a Londra stanno portando avanti in patria delle vere politiche di diversity per cui stupisce che in realtà in Italia ad esempio Linklater ha un solo socio donna che è l'avvocato Parzani che è un socio chiaramente di peso però resta da sola in mezzo insomma ad altri 12 uomini per cui insomma lei effettivamente è molto impegnata sul tema della diversity però all'interno dello studio qualcosa qualcosa non va ancora peggio in Freshfield dove ci sono zero partner donne questo è un dato che deve far riflettere se appunto confrontato a quello che fa Freshfield insomma la casa madre a Londra no? Esatto esatto infatti c'è proprio anche nella pagina web del sito di Freshfield una pagina appunto dedicata proprio alle pari opportunità in cui se vediamo appunto il cartello numero numero 5 quindi dedicato alla parità di genere vediamo proprio che lo studio evidenzia dei meccanismi premiali a favore della partnership al femminile come per esempio dei programmi di sponsorship globali per le donne e ha un ruolo attivo a livello globale nel cosiddetto 30 per cento club che è un gruppo di leader quindi sia avvocati professionisti imprenditori che sono impegnati a raggiungere la parità di genere un po' a tutti a tutti i livelli quindi si parla di questo 30 per cento club noi siamo andati anche a analizzare la pagina web del 30 per cento club e abbiamo visto che adesso aderiscono diversi paesi del mondo tra cui anche anche l'italia con professionisti di diversa provenienza professionale diciamo quindi avvocati ma non solo e ci sono anche alcuni avvocati uomini che sono a capo degli studi in italia esatto tra cui appunto il managing partner di freshfield sono appunto quasi tutti uomini tranne qualche qualche donna che a capo di studi legali penso all'avvocato crivellaro che è a capo dello studio withers però appunto nicolassi che è managing partner di freshfield fa parte di questo di questo sito di quota quota 30 appunto la la parte italiana come se insomma se andate a vedere proprio sul sul sito italiano di quota 30 si vede che non viene aggiornata da un bel po nel senso che sono obiettivi che vengono dati nel periodo 2015 2020 però appunto siamo al 2021 quindi andrebbe chiaramente aggiornata se si va a vedere il comitato esecutivo è veramente pieno di professionisti che probabilmente sono contenti di avere la foto lì dentro però poi appunto si ritorna al punto di partenza no quello che insomma l'immagine di facciata e quello che è ciò che viene fatto poi in casa propria esatto infatti il fatto che ci sia proprio asti a rappresentare freshfield italia mentre lo studio non ha alcun partner donna insomma fa fa un po pensare e ecco diciamo qui noi abbiamo fatto un po questa questa analisi come centro studi questa analisi delle delle quote rosa che insomma evidenziano quindi che la parità di genere è ancora appunto ben lontana dal dall'essere raggiunta in italia e speriamo comunque con questa analisi anche di avere un po sensibilizzato gli stessi studi legali insomma di averli comunque di aver aperto un po gli occhi su questo tema che non deve rimanere come dicevi tu gabriele solo sulla carta quindi magari raccontare non so gli studi che raccontano queste politiche che mettono in campo ma poi in realtà in concreto non hanno una non hanno magari delle delle soci e donne ecco sì noi continueremo chiaramente con il nostro centro studi a dare sia dati aggiornati su questo su questo fenomeno siamo stati i primi comunque a mettere in evidenza questa discrasia questa questo paradosso se vogliamo chiamarlo così continueremo a farlo sia appunto con i nostri dati sia con i nostri approfondimenti questa maratona è l'esempio proprio no del di quanto il tema delle della diversity delle opportunità sia importante per per le fonti ma soprattutto cercheremo di andare a capire anche il perché no quali quali misure potrebbero effettivamente spingere le donne a fare questo salto di carriera adesso in nella parte finale della maratona intervisterò tatiana beagioni che è presidente del comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di milano e chiaramente le chiederò cosa si può fare cosa può fare da un lato l'istituzione forense quindi le istituzioni dell'avvocatura e cosa si può fare dall'altro il legislatore perché poi sono questi due i piani su cui ci si può muovere insomma adesso noi possiamo lanciare a livello provocatorio un quota 30 all'interno degli studi legali però chiaramente non è una cosa applicabile poi probabilmente appunto anche la questione delle percentuali non è vista in modo positivo giustamente dal mondo femminile ma servono proprio degli degli incentivi per superare quella fase che si può individuare chiaramente nella maternità e dove è un dato di fatto la donna avvocato non è tutelata e soprattutto in questo periodo insomma con tutta la chiusura delle scuole la didattica distanza come ha sottolineato anche l'avvocato padovani esatto bene io ringrazio gabriele per essere stato qui qui con noi grazie a te federica grazie anche ai nostri telespettatori e adesso qualche minuto di pubblicità poi torniamo in diretta per la maratona è sempre l'otto marzo donne e lavoro grazie a tutti